Oggettivamente questo è un lockdown per noi. Un nuovo lockdown per il comune di Povo e del Grappa. Parole durissime quelle del sindaco Francesco Dalmonte all'indomani della nuova ordinanza emanata dal sindaco di Valbrenta Luca Ferrazzoli che vede ridisegnare la viabilità dopo la frana che ha costretto la chiusura del tratto tra San Marino e Rivalta in statale Valsogana. Di fatto taglia in due la valle perché i residenti di Povo non possono passare per la Valsogana se non i lavoratori, insomma delle ditte che insistono sulla Valsogana, ma tutti devono fare il giro per la feltrina. Tratto tra il ponte di Rialto Valstagna e il ponte in località Costa in via Valgadena, chiuso al traffico ad eccezione di residenti, lavoratori e altre poche categorie. Una nuova mappatura che secondo il sindaco di Povo e del Grappa avrà ripercussioni sul tessuto socio-economico. In Valsogana c'è almeno un 70% in meno di traffico, quindi vuol dire che tutto il tessuto economico e sociale è chiaramente in difficoltà e non può assolutamente permettersi di questa chiusura di durare più di 45 giorni di quello che hanno stabilito con l'ordinanza. Ordinanza che rimarrà in vigore almeno per un mese e mezzo. Siccome i tempi sono assolutamente incerti, che dipendono da tanti fattori, quindi dalla quantità di massi che devono tirare giù dalla montagna, piuttosto che da Annas e i lavori nel cavalcavia, un tempo più lungo veramente porterebbe alla chiusura di tante attività. Chiusura al traffico arrivata dopo un vertice in prefettura. Il prefetto ha convocato in maniera urgente, chiaramente, subito dopo la caduta del masso, un tavolo tecnico dove è stato convocato chi ha ritenuto più opportuno, non c'era Pove de Grappa come non c'era per dire Solagna. Quindi i comuni direttamente interessati allo sviluppo del traffico successivo a un'ordinanza. Quindi cosa chiede lei oggi? Io ho già chiesto al prefetto stamattina un tavolo urgente dove siano interessati tutti i comuni che hanno difficoltà. Quindi tutti i comuni che, vista l'ordinanza della Val Brenta, sono interessati alla modifica del traffico.